Ciao ragazzi, ben ritrovati su Advanced VR Fair, sono Ben e devo scusarmi con un utente in particolare Bomber 457, ma anche con altri di voi perché questo problema mi capita un po' a caso con chiunque praticamente Sono circa due settimane che Bomber mi chiede sotto alcuni video dei consigli o comunque una lista con i giochi gratuiti per Oculus Quest 2 Ora, quando mi arriva la notifica, io la notifica la vedo, vedo le prime linee del commento Ma quando poi provo ad aprire per rispondere, mi dice che il commento non è più disponibile Finora io pensavo che magari alcuni utenti prima scrivessero un commento e poco dopo, prima che io potessi visualizzarlo, lo cancellavano Quindi la notifica mi rimaneva, ma poi quando andavo ad aprire il commento, il commento non c'era più, secondo me perché era stato cancellato E invece a quanto pare si tratta di un bug, visto che ho anche controllato nella sezione dove ci sono i commenti bloccati in automatico E in quella sezione non ho trovato nulla Quindi questo video l'ho fatto per rispondere a Bomber 457 Che mi chiede una lista di giochi gratuiti su Oculus Quest 2 Alla quale aggiungo un paio di applicazioni social e delle demo Quindi Bomber 457, ecco la tua lista Alla quale aggiungo un paio di applicazioni social e delle demo Grazie a tutti. 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 Bene, spero che questa lista sia utile anche per altri di voi. Se conoscete ulteriori giochi gratuiti per Oculus Quest 2, fatemelo sapere tra i commenti così allunghiamo anche questa lista. Grazie per la visione, like, like, iscrizione e campanella, da bene è tutto. Ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi.